In questa giornata della memoria e dell'accoglienza vogliamo ricordare le 368 vittime che morirono nel mare mediterraneo nel 2013, la stragrande maggioranza donne e bambini. Vogliamo ricordare loro e ricordare gli oltre 22.000 esseri umani morti nel mare mediterraneo durante il viaggio per la vita, come ricordano i numeri dell'UNHCR. Onorevole Meloni, mi rivolgo a lei. Non abbiamo ancora capito quale sia la sua politica o la sua proposta politica in tal senso. Vale a dire che abbiamo capito perfettamente fino adesso la sua politica. Lei è per il blocco navale che non si può fare. Lei è per affondare il nade che è disumano. Lei è per creare gli ospoti in Africa e i capi di Stato e di governo africano hanno già bocciato questa proposta. Lei dice la relegation che già esiste dal 2015. Ci dica, da donna, da cristiana e da madre, lei intende alzare il blocco navale di fronte a Babine Gesù nelle mani di Maria e Giuseppe, come dice il papà Francesco, 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 Grazie.